a cura della redazione giornalistica un cordiale saluto a tutti da massimiliano spiriticchio in studio e da tutti noi di radio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne la giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra regione abruzzo e ferrovie dello stato per definire le modalità operative ed attuare in contesti di emergenza lo ha reso noto il sottosegretario della presidenza della regione con delega alla protezione civile mario mazzocca precisando che il documento vuole raggiungere la massima tutela degli interessi della collettività secondo mazzocca il protocollo definisce sul territorio regionale le necessarie sinergie tra ferrovie dello stato e protezione civile regionale per fronteggiare in modo efficace eventuali criticità attraverso l'utilizzo di uomini mezzi e tecnologie di ciascuna delle due strutture dopo quasi 20 mesi non c'è ancora nessuna graduatoria del pacchetto giovani primo insediamento né si conoscono i tempi certi della sua pubblicazione nonostante le raccomandazioni messe per iscritto in maniera perentoria dal direttore generale Antonio Di Paolo entro il 31 luglio doveva essere tutto pronto e si sarebbero dovute concludere le istruttorie con relativa graduatoria denuncia il presidente della commissione regionale vigilanza e consigliere regionale Mauro Febbo che sottolinea è incredibile che 800 nuove aziende dopo oltre un anno e mezzo sono ancora in attesa di una risposta da parte della regione un'attesa così lunga rimarca Febbo che mai si era verificata nel mondo agricolo e che rischia di mandare in crisi centinaia di aziende I carabinieri inviati dalla procura della Repubblica di Pescara che ha aperto un'indagine sono stati negli uffici della direzione della ASL per sequestrare le carte relative alla nomina del direttore amministrativo aziendale Paolo Zappalà avvenuta lo scorso 26 aprile 2016 Zappalà, 48enne romano, una laurea in economia e commercio nel 1995 all'Università Torvergata è arrivato a Pescara per sostituire Domenico Carano in carica dal 2013 è stato scelto dal manager Mancini la scorsa primavera tenuto conto, così si iscrisse in un documento ufficiale dell'esperienza professionale maturata e del possesso dei requisiti di legge per lui uno stipendio annuo di 90.896,64 euro ovvero l'80% di quello del direttore generale che è di 113.620 euro all'anno Verrà reintegrato l'impiegato sorpreso a rubare 14.500 euro all'ufficio postale di via Giulio Cesare di Vasto lo ha deciso il giudice del lavoro del Tribunale di Chieti, l'area Pozzo ordinando al contempo il pagamento degli stipendi arretrati e delle spese legali secondo il Tribunale l'ente avrebbe dovuto licenziare subito il 58enne vastese dipendente delle poste che nell'estate del 2012 secondo l'accusa si era appropriato indebitamente della grossa cifra sottratta dalla cassaforte della filiale in cui lavorava il dipendente venne trasferito qualche mese dopo alle poste di Chieti salvo poi essere sospeso dopo poche settimane mentre era sottoposto a misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari quando cessò il provvedimento restrittivo due anni dopo appunto il dipendente venne reintegrato e adesso il giudice ha disposto il suo totale reintegro perché ha detto sostanzialmente che invece di essere sospeso avrebbe dovuto essere licenziato un'azione formativa volta al reinserimento sociale dei detenuti soggetto attuatore l'agenzia del servizio regionale beni culturali di Avezzano Rocca di Mezzo con sede ad Avezzano l'agenzia è direttamente coinvolta nel bicentenario della fondazione del corpo di polizia penitenziaria celebrata al castello Orsini del capoluogo marsicano cui ha preso parte anche la responsabile di Avezzano Anna Maria Marziale la convenzione triennale stipulata a settembre 2016 tra Regione Abruzzo, ora Dipartimento Cultura DPH nel periodo dell'intesa siglata era la direzione Cultura e Servizi Culturali e la casa circondariale a custodia attenuata di Avezzano Ministero di Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria è volta a promuovere un'azione formativa e informativa per il reinserimento del detenuto la custodia attenuata infatti si realizza per una detenzione a fine pena volta al reinserimento, come avviene ad Avezzano per i suoi circa 50 detenuti oltre la metà dei quali extracomunitari al via ieri al Consiglio Comunale di Pescara il dibattito sul piano sociale la consigliera della maggioranza, Daniela Santroni ne ha chiesto la rapida approvazione per evitare ulteriori proroghe a quello vecchio sostenendo che ci sono importanti investimenti in settori strategici per questo ambito critico l'esponente di Forza Italia Vincenzo Dincecco secondo cui nel testo in discussione sono presenti nomine di carattere ideologico e politico anche in settori delicati come quello del sostegno all'infanzia sono stati presentati circa 630 emendamenti sono stati consegnati definitivamente i lavori di riqualificazione dell'aerostazione che entro fine marzo 2018 per quanto riguarda l'aeroporto di Pescara regaleranno appunto allo scalo aeroportuale agli utenti una nuova immagine una struttura più moderna e funzionale molte le novità previste dal piano di riqualificazione degli spazi interni dell'aeroporto d'Abruzzo la Saga, società che lo gestisce informa che i varchi per il controllo della sicurezza dei passeggeri verranno spostati e ampliati e passeranno dagli attuali 2 a 3 consentendo in tal modo di ridurre i già minimi tempi di attesa per il controllo dei viaggiatori in partenza dall'aeroporto pescarese aria nuova anche per i gate e le sale d'imbarco che delle attuali 3 diventeranno 5 la sala arrivi nazionali sarà completamente rinnovata e ubicata attiguamente alla sala arrivi internazionali in altra sede rispetto a quella attuale fra le altre importanti novità in cantiere c'è l'installazione di un nuovo nastro BHS per il trasferimento dei bagagli il nuovo sistema di trasporto per le valigie consentirà di smaltire molto più velocemente lo spostamento dei bagagli dei passeggeri in partenza dall'aeroporto d'Abruzzo verso le destinazioni ad esso collegate ordinanza firmata ieri dal sindaco di Pescara per il divieto di balneazione nella zona antistante Fosso-Vallelunga un divieto temporaneo quello firmato dal sindaco Alessandrini dovuto alle intense e recenti piogge che hanno causato acque di qualità scarsa il comune ricorda che l'ordinanza ha valore precauzionale in attesa dei dati di riscontro forniti dall'ARTA come da protocolli regionali in occasione della seconda giornata nazionale di psico-oncologia oggi si terrà un duplice evento sul tema i bisogni psicosociali dei pazienti e dei loro caregiver l'evento organizzato da Narita Di Silvestre psicologa e psicoterapeuta presso il servizio di psicologia oncologica dell'unità operativa di oncologia medica dell'ospedale di Pescara nonché coordinatrice della sezione della regione Abruzzo della società italiana di psico-oncologia è così strutturato dalle 15 alle 19 gazebo informativo in piazza della rinascita a Pescara dalle 19 alle 22 presso il cinema massimo in via caduta del forte 15 a Pescara sarà proiettato il film Collateral Beauty con relativa discussione finale sulla tematica e oggi anche gli screening gratuiti sempre nella stessa zona il centro quindi di Pescara per quanto riguarda invece la giornata del mondiale sull'Alzheimer sempre oggi giovedì 21 settembre la Chiesa celebra la festa di San Matteo Apostolo ed Evangelista mentre domani in occasione del transito di San Pio da Pietrelcina in serata si terrà la veglia di preghiera presso la Chiesa Cattedrale di San Cetteo che comincerà alle ore 21 per concludersi intorno alle 22 e 30 siamo al meteo oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo sereno con temperature da 15 a 22 gradi e 20 deboli e nelle zone interne cielo poco nuvoloso fino a metà mattino sereno dalla tarda mattinata a metà pomeriggio poco nuvoloso nel resto del pomeriggio nelle prime ore della sera e sereno in tarda serata con temperature da 15 a 20 gradi e 20 deboli il mare è previsto poco mosso era l'ultima notizia per questo nostro radio giornale da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne a voi tutti grazie per averci seguito buona giornata Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Radio Speranza Notizie Grazie a tutti.